Caro Preside, tutti noi alunni insieme ai docenti del personale ATA del Plesso di Sampo di D'Ultra siamo contenti di averla tra noi e pertanto le rivolgiamo un caloroso benvenuto. Sicuramente oggi scriveremo una bella pagina della nostra storia, del libro, del nostro istituto e soprattutto del nostro Plesso. Tutto ciò grazie alla sua volontà di stare sempre vicino ad ognuno di noi. La scelta di questo Plesso come sua seconda sede per noi è un motivo d'orgoglio in quanto contribuisce a valorezzare il paese, la nostra comunità scolastica. Tutto ciò ci onora e ci sprona nuovi stimoli. Noi cercheremo di ricambiare questa fiducia impegnandoci a fare sempre meglio. Non mancherà da parte nostra e dei docenti il massimo sforzo, la disponibilità e la collaborazione affinché questa scuola possa diventare quello che lei desidera. Tutta la nostra comunità scolastica di Sampo Tito le augura un buon lavoro e una buona permanenza tra noi. Grazie. 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 Grazie.